Il Festival D'Annunziano è un festival multidisciplinare che contiene anche grandi manifestazioni sportive, ne abbiamo altri due, la grande regata D'Annunziano, però quest'anno gli eventi sportivi hanno assunto veramente un livello nazionale perché la regata è inserita nelle tappe di avvicinamento ufficiale alla Barcolana, la regata D'Annunziano, la Barcolana è la più grande manifestazione pelica sicuramente in Italia e il tornare sull'invenzione dello scudetto e sul messaggio di D'Annunzio a Fiume con la famosa partita è stato particolarmente piacevole con l'organizzazione di questo torneo per ragazze Under 15, però le selezioni ufficiali di Juve, Inter, Milan, Roma, Paris Saint Germain e Pescara che sono tra le città in cui il segno di D'Annunzio è particolarmente riscontrabile, il segno del passaggio di D'Annunzio è particolarmente riscontrabile, quindi è un dato di grande importanza, è un evento sportivo di caratura internazionale, è il primo anno e sono certo che crescerà molto negli anni di futuro.